Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi vi propongo un book tag che ho scovato sul canale di Martina, Ima in the Books, e che mi è piaciuto tantissimo. Il book tag si chiama The Moody Book Tag, o meglio in italiano, Sei un lettore lunatico? Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò un nuovo video. E se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Bene, direi di cominciare subito con le domande. Ti consideri un lettore che si fa influenzare dall'umore? Direi di sì, perché credo che un po' tutti ci facciamo influenzare dal nostro umore nelle cose che facciamo nella nostra vita, compresa la lettura. Quindi magari se sono in un momento in cui mi sento un po' giù, potrei non vedere in un libro la bellezza che magari in realtà gli appartiene. Oppure, non so, trovare un libro che è divertente, trovarlo invece poco spassoso o noioso, insomma. Però credo che questo avvenga soltanto quando proviamo delle emozioni un po' forti. Quindi magari stiamo affrontando un momento particolare della nostra vita in cui ci sentiamo molto giù o molto felici e questo influenza anche il rapporto che abbiamo con i libri. Perché se no, nella mia normalità, nella mia quotidianità, magari l'umore non influenza così tanto la lettura. Crei delle TBR e poi riesci a rispettarle? Sì, io creo una TBR all'anno, che è la mia TBR autunnale. Potete trovare tutti i video qui sul mio canale, magari ve ne lascio qualcuno qui sotto. E appunto creo una TBR, di solito a settembre per l'appunto, nella quale mi faccio un elenco dei libri che sono ancora nella mia libreria e che devono essere letti. Cercando di leggerli tutti prima di Natale, perché poi a Natale di solito mi arrivano un po' di libri e voglio dedicarmi a quelli, ecco. Quindi io faccio poche TBR, perché come ho detto ne faccio una all'anno, però cerco di rispettarle e solitamente riesco a portare a termine le letture. I libri hanno un'influenza sul tuo umore? Le atmosfere di un libro riescono a toccarti? Assolutamente sì, se queste atmosfere sono descritte in maniera appropriata. Nel senso che se il protagonista affronta delle difficoltà, anche emotive, non è detto che tutte le storie che leggo mi condizionino allo stesso modo. Però se l'autore o l'autrice è molto bravo o brava per l'appunto, allora chiaramente sì, mi rimane addosso questa sensazione. Per esempio uno degli ultimi libri che ho letto, che è Cambiare l'acqua ai fiori, ecco. In questo caso io sentivo quello che provavano i protagonisti e quelle sensazioni mi rimanevano addosso, diciamo, anche quando il libro era chiuso e messo da parte. Quando ti senti giù, preferisci leggere libri allegri, tristi o neutrali? Quando sono giù preferisco leggere libri neutrali, perché se sono giù di morale, leggere un libro triste non mi aiuterebbe. Ma allo stesso tempo leggere un libro allegro magari mi fastidisce, perché non mi sento dell'umore giusto per l'appunto per leggerlo. Invece un libro neutrale in cui c'è una bella avventura coinvolgente, magari non ci sono emozioni troppo forti, potrebbe essere la lettura giusta per affrontare questo periodo. Anche perché di solito quando sono giù di morale non leggo molto. Quindi trovare qualcosa che invece sia un po' più veloce, abbia una trama più veloce e un po' meno profonda, ecco, dal punto di vista emotivo, mi aiuta a portare avanti la lettura anche in quei momenti. In genere, usi la lettura per evadere, imparare qualcosa o riflettere in senso critico? Ovviamente in questo caso la risposta è tutti e tre, nel senso che la lettura mi serve per evadere, perché un libro mi fa vivere delle avventure attraverso gli occhi dei protagonisti. Un libro mi fa anche imparare qualcosa, chiaramente, non deve essere necessariamente un saggio o un manuale per insegnarci qualcosa, basta anche, ad esempio, un romanzo storico. E mi fa anche riflettere su particolari argomenti. Non tutti i libri lo fanno allo stesso modo, però ovviamente questo avviene abbastanza spesso. Un esempio è quando noi facciamo le nostre riunioni del club del libro, leggiamo tutti lo stesso libro una volta al mese, per l'appunto, e quando ci vediamo è l'occasione per parlarne in maniera molto approfondita e tocchiamo sempre tantissimi temi che ci coinvolgono anche molto e a volte le discussioni sono anche accese, quindi direi che la lettura in realtà è capace di farci fare un po' tutto. Qual è un libro che ti ha fatto ridere di gusto? Non leggo molti libri comici, diciamo, mentre mio marito è più appassionato, quindi intanto compra qualche libro anche di comici della televisione, ecco, per esempio, io non lo faccio quasi mai. Però mi è stato regalato questo libro, un figlio, e ho detto tutto, della The Pozzolis Family, che conoscerete perché sono molto attivi sui social, e questo mi ha fatto ridere perché loro mi piacciono, la loro comicità mi piace, e qui parlavano appunto del loro incontro e di come poi è nato appunto il primo figlio, ed è stato molto divertente vedere i due punti di vista, perché poi è scritto da entrambi, sia da lui che da lei, quindi è stato carino e mi ha fatto fare anche delle belle risate. Un altro libro che ricordo mi ha fatto veramente molto ridere è stato un libro della Chinzella, di Sophie Chinzella, non mi ricordo il titolo perché ne ho letti tanti di questa autrice, sicuramente non era I Love Shopping, perché probabilmente I Love Shopping è l'unico libro di questa autrice che non mi è piaciuto, però tutti gli altri che ho letto mi facevano molto ridere, ecco vedere questa ragazza malata per lo shopping e assolutamente incapace di prendere delle decisioni sensate per la sua vita mi faceva ridere, magari se lo leggessi adesso forse non lo troverei così divertente, però io l'ho letto durante la mia adolescenza e mi piaceva, ecco questo era uno dei libri che mi faceva ridere di più. Qual è un libro che ti ha fatto piangere? O se non ti capita di piangere, un libro che ti ha almeno commossa e toccata? Ne ho parlato anche in un video uscito recentemente, Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine di Tommy di Bari, il primo libro che ho letto sull'adozione mi ha fatta proprio piangere, mi ha fatta commuovere alla fine e mi sono ritrovata proprio in lacrime praticamente nella sala d'attesa dal medico. Un libro che mi ha toccata non solo per l'argomento trattato, ma anche per come Tommy di Bari ha parlato della sua esperienza. Un altro libro che mi ha fatto piangere è stato Dobbiamo parlare di Kevin, un libro che adesso ha cambiato il titolo e si chiama E ora parliamo di Kevin, un libro straziante che veramente anche questo l'ho finito in lacrime, ma allo stesso tempo un libro bellissimo che vi straconsiglio. E poi ritorno a dire che anche Cambiare l'acqua ai fiori è stato un libro che ultimamente mi ha molto toccata e a tratti commossa. Un libro rispetto al quale non riesci a capire come ti senti? Guardando nella mia libreria l'unico libro che veramente non sapevo come interpretare le emozioni che provavo quando lo guardavo è stato Splendore di Margaret Mazzantini. Questo è stato il primo libro che ho letto della Mazzantini perché sono andata alla presentazione e è anche autografato, quindi molto bello, però la storia non mi ha convinta. Nonostante adesso io abbia letto anche altro di lei, quindi io sappia, conosca la sua abilità nello scrivere, questo libro mi sembrava forzato. Aveva una scrittura che sembrava volesse per forza essere poetica anche quando non era necessario. In più la storia non mi aveva convinta in pieno, avevo trovato il significato, comunque la morale, forse il messaggio che voleva lasciare l'autrice non completamente condivisibile, quindi nonostante, ecco, se è un libro che io riconosco la qualità che c'è dietro e la bravura della Mazzantini non mi ha convinta in pieno e quindi non so bene che cosa provo nei suoi confronti. Preferisci leggere in un giorno di sole o di pioggia? Sicuramente in un giorno di pioggia... Sì, è sbagliato. Sicuramente in un giorno di sole, perché mi piace leggere all'aperto, quindi in primavera o in estate chiaramente, però in generale anche il sole che entra dalle finestre è proprio stimolante per leggere, mentre la pioggia o le nuvole, il tempo grigio, non sempre mi invogliano a leggere, anzi in quei casi mi sento anche molto svogliata e mi capita più spesso di guardare la televisione piuttosto che leggere. Generalmente ti piace creare l'atmosfera quando leggi musica, luci, profumi? Allora, l'idea mi piace moltissimo, però non lo faccio mai, nel senso che raramente mi capita di accendere una candela sul comodino quando leggo la sera, soprattutto se è profumata, perché mi piace l'odore poi in camera, però in realtà non lo faccio quasi mai. Cioè, è un'idea bellissima di queste cose che si vedono su YouTube, su Instagram, eccetera, però alla fine non lo faccio. La musica sicuramente non la metterei mai, perché io odio qualsiasi tipo di rumore quando leggo. Pensate che quando sono a letto la sera e sia io che il maritino leggiamo, mi dà fastidio anche il maritino che deglutisce, quindi proprio io adoro il silenzio più totale quando leggo, e l'ho sempre fatto anche quando ero alle superiori, quindi diciamo che no, non creo un'atmosfera particolare. Riesci a passare subito da un libro all'altro o hai bisogno di una pausa? Passo subito da un libro all'altro, anzi, alla gioia di finire un libro si aggiunge la gioia di iniziarne uno nuovo, quindi di solito insomma quando sono alle ultime pagine già comincio a pensare a cosa posso leggere. Anche se il libro mi è piaciuto molto, è difficile staccarmene, è stata una storia molto coinvolgente e così via, mi piace comunque subito iniziare una nuova avventura, e quindi mi dedico subito a un altro libro. Bene ragazzi, il video finisce qui, le domande le trovate sotto come sempre, quindi mi raccomando lasciatemi le vostre risposte, è bellissimo per me leggere tutto quello che avreste risposto voi a questo tag. E niente, io vi saluto e come sempre ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao! Ho cercato di essere un po' più sorridente.